Signori noi questo pezzo lo dedichiamo come sempre alla Madonna di Montevergine sappiamo che a Piedimonte ci sono parecchi dei voti e diciamo siamo anche interni a Bastoglio, vero cosa sa? Assofrati, amarò non sempre a zandar, coro sarga a mimari, guardarati gancherati se avessi un'apresentanza, vingar, 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 vingar vingar, 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 vingar Buon giorno nei rienti che c'è il mondo, Sognano tutte le persone, threats, Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione